Se avessi avuto 50 franchi per andare a Roma, avrei fatto fuori re Umberto I e quindi l'imperatrice sarebbe ancora viva. Sono le tasche vuote che hanno scelto vittima e arma del delitto. Siamo la ravagione, vive le sonne, vive le sonne. Siamo la ravagione, vive le sonne, vive le sonne e l'explosion. Amikor majd meg kell hallnom, fektessetek a tenger partjára. Siamo la ravagione, vive le sonne. Grazie. 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 Grazie.